Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Lo sapevate che internet ha una sua macchina del tempo? Ebbene io posso tramite il sito di cui ora vi parlerò brevemente andare a vedere anni addietro come si presentava il tal sito che ero solito consultare addirittura, come si presentava e con quali contenuti il motore di ricerca Google, perché Google lo sappiamo come molti siti internet ha cambiato la sua pelle nel corso degli anni. E allora vediamo un secondo il sito di riferimento di oggi che è archive.org, cito testualmente ma è archive.org. Qui siamo su internet archive, una risorsa preziosa di cui parlerò in un paio di videocorsi, compreso questo, segnalata anche dall'amico Albano Battistella, informatico e divulgatore. Allora, vedete quel way back machine al centro? Questa è la macchina del tempo. Io clicco nella mia riga, vado a digitare www.google.it e premo invio sulla tastiera. Vediamo che cosa accade. Allora, effettuando una ricerca guardate, io ho una certa profondità di campo, in questo caso arrivo sino al 1996, però per la verità come vedete le indicazioni grafiche cominciano dal 2000. Il mese e l'anno con i bollini colorati rappresenta le fotografie, cioè le istantanee del tal sito, che sono storicamente memorizzate in rete ci permettono quindi di risalire ad una risorsa anche se nel frattempo quel sito internet o quella risorsa sono stati magari cancellati o doffuscati. Vediamo un po' ad esempio cliccando su 2007, click, e poi uno dei bollini presenti, vediamo un po' il 2 febbraio, vedete 8 snapshots, sono le famose fotografie. Vediamo un pochettino come si presentava la pagina in lingua italiana del motore di ricerca Google alle 14 e 19 del 2 febbraio 2007. Vediamo un po', facciamo un click, aspettiamo che lavori archive.org, che è la risorsa, e guardate un po', quasi un tuffo al cuore. Ecco come si presentava Google Italia tanti anni fa. Proviamo anche a vedere se funziona. Allora, cerca il web, vedete che è già indicato, addirittura clicco su pagina in italiano, vado a cliccare all'interno della mia barra di ricerca, mentre la barra degli indirizzi ricordate che è sempre quella in cima, in cima nel browser, vado a digitare ad esempio storia d'Italia. Vediamo cosa succede. Clicco su cerca con Google. ecco, ora qua ovviamente gli abbiamo chiesto troppo ed il risultato lo prevedevo, perché noi abbiamo la fotografia di quanto accadeva nel 2007, non sempre abbiamo un pieno utilizzo, però se fosse un sito di informazione con notizie presenti non peggio, comunque fotografate in Wayback Machine, io lì le potrei ritrovare. Per cui, Wayback Machine uguale macchina del tempo di internet, interessante per curiosare all'interno di diversi periodi e diverse annualità e vedere come la tecnologia ed il web si siano concretamente evoluti. Vi do già appuntamento al successivo videocorso dove parleremo ancora di Internet Archive, perché oltre che integrare la macchina del tempo è una miniera reale di risorse, programmi, musica e libri. Ancora un saluto da Andrea Cartotto.